Buonasera, benvenuti e benvenuti a una nuova edizione del Tg6. In apertura la pagina dedicata al Covid era da 5 mesi che in Abruzzo non si registrava un numero così alto di nuovi casi, 167. Sale anche il numero di ricoveri, seppur il tasso d'occupazione negli ospedali è ancora lontano dalla soglia dell'ERTA. L'incidenza settimanale però è da zona gialla. Allora vediamo il servizio con i numeri del bollettino di oggi e a seguire il commento dell'assessore regionale della sanità Nicoletta Verì, intervistata da Paolo Renzetti. Sono 167 nuovi casi di Covid oggi in Abruzzo. Non erano così tanti da primavera esattamente dal 7 maggio scorso. Corrisponde al 5,6% dei 2.981 tamponi molecolari processati. L'incremento più consistente nell'Aquilano con 66 nuovi casi. Seguono il Teramano, il Chietino e il Pescarese con rispettivamente 45, 33 e 15 casi. Cresce l'incidenza settimanale media del virus. Negli ultimi sette giorni ha raggiunto quota a 51 ogni 100.000 abitanti, ma è alla 77 solo nell'Aquilano. Superata la soglia di 50, l'Abruzzo sarebbe già in zona gialla. Se il tasso d'occupazione negli ospedali superasse la soglia del 10% per le terapie intensive e del 15% per le aree mediche. I numeri però, seppur in crescita, sono ancora lontani dal limite stabilito dal Ministero. Al 6% per le rianimazioni, dove sono ricoverate 74 persone, e al 5% per l'area medica, dove i pazienti sono 64. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1.779, 122 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore inoltre 45 guariti e nessun decesso. Il virus accelera in tutta Italia. Il numero delle regioni che la cabina di regia reputa a rischio moderato, di cui l'Abruzzo già faceva parte, cresce da 4 a 18, mentre l'RT medio sui casi sintomatici è pari a 0,96. In aumento è appena al di sotto della soglia epidemica fissata a 1. Sono in crescita i casi nel Paese, sono in crescita i positivi anche in Abruzzo. Qual è la situazione se c'è da essere un po' preoccupati anche in vista dell'arrivo dell'inverno, anche delle festività natalizie? Sì, è vero, abbiamo un aumento di casi nella nostra regione. Devo dire anche un aumento esponenziale, ossia ogni giorno abbiamo un numero maggiore. Questo vuol dire che bisogna riporre ancora più attenzione alle vaccinazioni. Abbiamo aperto la piattaforma per la terza dose. Vedo che c'è anche una buona richiesta e quindi questo è un punto a vantaggio. Vorrei ricordare anche però che l'occupazione dei posti letti, sia di terapia che di terapia subintensiva, che è subintensiva, è ancora inferiore alla media nazionale perché è questo l'indicatore che poi potrebbe far cambiare la fascia. Quindi una tranquillità per evitare il cambiamento della fascia di colore della nostra regione l'abbiamo, però un'attenzione particolare a rispettare ancora quelle norme fondamentali per la trasmissione del virus. E vorrei anche dire che l'80% della popolazione ricoverata è quella che non ha fatto il vaccino. Prosegue la vaccinazione anti-covid con le terze dosi, ma è iniziata anche la vaccinazione anti-influenzale? Sì, dall'11 ottobre è iniziata la vaccinazione anti-influenzale. La vaccinazione è gratis per gli over 60 e per i bambini dai sei anni in su. Quindi è importante vaccinarsi perché già dai primi freddi abbiamo avuto anche un aumento dei casi, anche di ricovero perché purtroppo l'influenza colpisce in modo particolare anche le persone con età avanzata e quindi un invito ad recarsi da proprio medico di famiglia, dai centri vaccinali, per poter ricevere per la somministrazione del vaccino anti-influenzale. Sopralluogo straordinario oggi in Abruzzo dell'amministratore delegato di ANAS Massimo Simonini che è accompagnato dal senatore Luciano D'Alfonso, ha preso visione delle opere infrastrutturali della nostra regione, in particolare della viabilità Scafa-Manoppello-Passo Lanciano di Colle Caprino di Pescara e della Loreto Penne. Vediamo. Noi oggi abbiamo assunto tre bersagli, la viabilità per Passo Lanciano che è una viabilità al servizio di un giacimento turistico di rilievo che può dare opportunità ma anche problemi se l'infrastruttura non è funzionante e abbiamo rilevato dei punti di forza e qualche criticità che entreranno nell'agenda di ANAS. La seconda tappa ma non per ordine di importanza è la questione della circunvallazione di Pescara-Montesilvano che può diventare un semiraccordo anulare se si mette in agenda la capacità e possibilità di progettare lo svincolo di Colle Caprino. Si doveva fare 40 anni fa. La terza questione è la Loreto Penne, abbiamo i soldi, i consensi stanno arrivando degli enti locali che molte volte sono i problemi e oggi con l'ANAS verifichiamo la condizione della progettabilità. Sono dei sopralluoghi che servono per capire lo stato di alcune realtà, verificare quali sono i nostri stanziamenti, quindi cosa è previsto nel nostro contratto di programma su quelle realtà specifiche e capire come attuarli. La strada di Penne sicuramente ha già un finanziamento, quindi già parte avvantaggiata sotto questo profilo. Stiamo facendo la progettazione, stiamo andando avanti con la progettazione, abbiamo delle difficoltà su alcuni punti, ma pensiamo di risolverle magari facendo degli stralci e dividendo magari l'infrastruttura in più pezzi in modo tale da anticipare quello che è anticipabile per poi ragionare sulle parti più difficili. Ieri a Roma una delegazione di sindaci di Abruzzo e Lazio ha incontrato il ministro dei Trasporti Enrico Giovannini ricevendo conferma del blocco del rincaro dei pedaggi della A24 e della A25. Il servizio è a cura della redazione di Infomedia. Incontro a Roma tra una delegazione di sindaci di Abruzzo e Lazio e del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Enrico Giovannini sul caro pedaggio e la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25. Al vertice presente anche il sottosegretario regionale con delega alle Infrastrutture, Umberto D'Annunzis. Sul tavolo anche la velocizzazione della rete ferroviaria Roma-Pescara, la revisione delle reti TNT con l'inserimento del corridoio adriatico e il raddoppio della superstrada Vezzano-Sora. Il ministro ha confermato la sterilizzazione delle tariffe fino al 31 dicembre 2021 con l'impegno del governo a non far aumentare nel prossimo anno le tariffe e ad effettuare investimenti per l'adeguamento dell'autostrada per la messa in sicurezza sismica con risorse pubbliche. Il commissario Gentili ha confermato che il progetto per l'adeguamento e la messa in sicurezza è in fase di valutazione della società Italfer e che sono disponibili 3 miliardi di euro su una spesa complessiva prevista di 6 miliardi. È stata inoltre pubblicata la gara per il controllo di 170 viadotti per 200 milioni e la messa in sicurezza di 36 viadotti e interventi stradali nella galleria del Gran Sasso per complessivi 800 milioni. Per il comune di Vezzano, presenti all'incontro, l'assessore ai lavori pubblici Emilio Cipollone e il consigliere comunale Nello Simonelli. Siamo appena usciti dal ministro dei trasporti dove abbiamo avuto un incontro per trattare l'argomento dei rincari autostradali sull'A24 e 25. era presente il ministro, era presente il capo di gabinetto e i due commissari. L'incontro è stato abbastanza proficuo, abbiamo avuto delle risposte in sostanza positive ma faremo a breve un video congiunto per chiarire a tutti e per spiegare quello che ci è stato detto e quello che noi abbiamo chiesto al ministro. Illustrati oggi in regione i dettagli e i termini dell'acquisizione dello stabilimento Celta di Tortoreto acquisito dal gruppo Digital Platforms SPA, il servizio. Buone notizie sul fronte occupazionale nella nostra regione. Lo stabilimento Celta di Tortoreto è stato infatti acquisito dal gruppo Digital Platforms SPA. Le modalità dell'operazione sono state illustrate questa mattina in conferenza stampa a Pescara dal presidente della giunta regionale Marco Marsilio, dall'assessore alle politiche del lavoro Pietro Quaresimale e dal CEO di Digital Platforms Claudio Contini. Abbiamo risolto la vertenza Celta con l'acquisizione da parte di Digital Platforms SPA, una società importante che non solo valorizzerà tutto il patrimonio tecnologico di competenze della Celta, riassumendo tutto il personale esistente e anzi annunciando una crescita dell'azienda che porterà anche a nuova occupazione. È un lavoro che abbiamo seguito sin dall'inizio, presentato anche in anteprima, prima ancora che si formalizzassero alcuni passaggi al Ministero perché conoscevamo la forza, l'autorevolezza, la serietà dell'azienda, ci abbiamo investito sopra e siamo stati ripagati in questo atto di fiducia da una soluzione positiva della vertenza che fa ben sperare anche per altri tavoli aperti su altre questioni occupazionali dell'Abruzzo. 65 dipendenti vengono reintegrati e per di più c'è l'azienda che ha rilevato la Celta che vuole fare nuovi investimenti, che oggi facciamo questa conferenza per spiegare i dettagli. Quindi sono felice, la regione farà la sua parte anche in campo di politica attiva del lavoro, se è necessario riqualificare il personale, soprattutto anche a livello di ricerca potremo valutare delle convenzioni con le università abruzzesi per cercare di sviluppare ulteriormente questo sito che sicuramente svolge un'attività molto attuale anche ai fini della transizione ecologica che è un tema sentito a livello nazionale. Il gruppo è integralmente italiano, fatto da aziende e di management integralmente italiani. Noi crediamo fermamente che i campioni nazionali siano una risorsa di questo Paese e vogliamo farne parte. Noi abbiamo già confermato, preso l'impegno e confermato l'impegno di riassumere tutti i 65 dipendenti che ad oggi fanno parte dello stabilimento e abbiamo avviato insieme con le istituzioni locali dei piani per poter gettare le premesse per acquisire nuove competenze digitali e di cyber sicure di cui sentiamo grandemente il bisogno. A margine dell'incontro odierno l'assessore Quaresimale ha parlato anche degli sviluppi dell'avvertenza Ariello. È vero che l'Ariello delocalizza, però rispetto a qualche settimana fa abbiamo avuto un'apertura dell'azienda e viene scongiurato il licenziamento di metà novembre, ci saranno gli ammortizzatori sociali e anche degli incentivi all'esito, quindi rispetto all'inizio sicuramente dei segnali positivi. Noi anche lì come regione cercheremo di dare il nostro contributo affinché si possa trovare un'azienda che possa rindustrializzare e ricollocare tutti i dipendenti. A poche ore dall'arrivo delle lettere di licenziamento per i dipendenti del Ciappi di Chieti i vertici del centro di formazione professionale chiamano in causa la regione Abruzzo. Sì, ma è un atto assurdo, è contrario alle leggi nazionali. Se lo Stato italiano ha prorogato al 31 dicembre la cassa integrazione in deroga Covid, proprio per i casi esattamente come il Ciappi, io non capisco se la regione Abruzzo faccia parte dello Stato italiano oppure la Repubblica delle Banane. È un atto che non è demenziale, è illegittimo, è illegale, è assolutamente fuori luogo da ogni punto di vista. Cosa gli costa alla regione prorogare la cassa integrazione in deroga fino al 31 dicembre, che è a totale costo dello Stato, ma ci vuole massacrare ancora di più, ci vuole umiliare. E io dico ancora, ma può essere che non c'è un assessore, un Presidente, un consigliere regionale che solo Pettinari ha fatto delle interrogazioni, che non guardi le carte, che non ci chiami e noi gli spieghiamo perfettamente che il liquidatore sta facendo degli atti sconsiderati contro le norme nazionali. Quindi sono atti assolutamente che noi sicuramente impugneremo, ma non è possibile che con i soldi pubblici questi signori lo gestiscono come se stessero a gestire, ma manco le loro case, i loro gabinetti. È una cosa assurda. E a Chieti questa mattina è stata presentata la nuova stagione di prosa del Teatro Marucino. Otto appuntamenti con grandi nomi, vediamo quali, nel servizio di Alfredo Primante. È un cartellone che punta sulla qualità delle opere e degli interpreti, quello che Davide Cavuti ha confezionato per la stagione di prosa 2022 del Teatro Marucino di Chieti. Il direttore artistico ha raccolto il testimone e l'eredità del compianto Federico Fiorenza. Stagione che sarà connotata da un aspetto importante che è la qualità degli interpreti, la qualità delle compagnie che verranno coinvolte e non solo, ma il binomio tra gli autori dei testi che noi metteremo in scena e il riallestimento, la rilettura in chiave anche moderna di alcuni testi. Si parte sabato 29 gennaio con la bottega del caffè di Carlo Goldoni con Michele Placido. Poi sul palco del Marucino si alterneranno Alessandro Haber con Morte di un commesso viaggiatore, Giorgio Pasotti con Racconti disumani, Leo Gullotta con Bartle Biloscrivano, Ugo Pagliai e Paola Gasman con una edizione particolare di Romeo e Giulietta ed ancora Luca Argentero con E' Questa la vita che sognavo da bambino in una special edition, Nicola Piovani con La musica è pericolosa ed un omaggio ad uno scrittore abruzzese, Remo Rapino, vincitore del premio Campiello 2020 con Vita, Morte e Miracoli di Buonfiglio Liborio. Infine una serata di gala dedicata a Anton Giulio Maiano. Un grande teatino il quale ha insegnato tramite la televisione che cosa significa portare in televisione appunto i più bei romanzi dei più grandi autori europei. Il Maruccino dunque torna al centro della vita culturale della città di Chieti. La volontà dell'amministrazione comunale è che il capoluogo diventi un punto di riferimento a livello regionale e nazionale. Merita assolutamente, vista la sua vocazione, di puntare a quel turismo culturale al quale noi crediamo e siamo certi di poterlo riuscire a portare a compimento anche grazie soprattutto al Teatro Maruccino. Le porte sociali si mescolano nella manifestazione Fuoristrada e Solidarietà che si terrà domani e dopodomani a Montesilvano. Andrea Costantini L'esibizione sportiva di macchine di grossa taglia sulla spiaggia il tutto con uno sguardo attento e concreto al sociale. Si chiama Fuoristrada e Solidarietà la manifestazione che si terrà domani e dopodomani sul lungomare di Montesilvano che assicura spettacolo ma anche per volontà dell'associazione Fuoristrada Abruzzo sostegno al progetto del Comune Mare Senza Barriere e all'attività dell'ACBE, l'associazione Genitori Bambini Emopatici. C'è chiaramente l'aspetto sportivo che è preminente nel senso che andiamo a presentare una competizione che comunque rientra all'interno del cartellone degli eventi della Federazione Italiana Fuoristrada. C'è poi l'aspetto sociale che è altrettanto importante se non forse anche di più perché abbiamo unito l'utile e il dilettevole l'associazione infatti ha inteso donare al Comune di Montesilvano tre carrozzine job cosiddette che serviranno per rendere ancora più accessibile il mare senza barriere ovvero la spiaggia dedicata alle persone diversamente abili qui a Montesilvano insieme ad un sollevatore e inoltre anche una denazione in denaro che verrà fatta all'ACBE. Sono attrezzature che non avevamo e quindi ora grazie a tre carrozzine e un sollevatore tutte le persone con disabilità proprio tutte, tutti i turisti di Montesilvano, italiani e europei potranno godere del mare senza barriere grazie appunto a questa straordinaria e meravigliosa solidarietà. Quindi abbiamo davvero eliminato ogni limite. La manifestazione si tratta da Via Aldo Moro dopo i grandi alberghi la strada rimarrà chiusa e si svolgerà tutto sulla sabbia con dei fuoristrada facciamo due tracciati un tracciato diciamo normale e un tracciato per i SUV per portare i ragazzi dell'ACBE e i disabili di Ferrante a provare delle emozioni che altrimenti non potrebbero provare. li portiamo con un pilota qualificato su una macchina volta a volta sempre con le rispettive del Covid. Noi siamo felicissimi che anche per il secondo anno l'amico Carota, il presidente dei fuoristrada Abruzzo abbia pensato la nostra associazione anche perché in questo momento storico stiamo ultimando la seconda casa alloggio siamo quasi agli sgoci dell'ultimo miglio manca solo l'ascensore per essere precisi io mi sono ripromesso entro marzo di fare l'inaugurazione speriamo di farcela ecco e quindi noi ci teniamo il nostro supporto è fondamentale e teniamo molto a questa cosa i bambini non devono più emigrare devono rimanere a Pescara. Ed è attenta al sociale anche la pop art del pittore abruzzese Lucio Monaco che appunto propone nelle sue tele l'artista utilizzando le tecniche dei grandi maestri del Novecento racconta con uno stile personale la realtà che lo circonda e anche il passato dal quale veniamo Cristiana Quaranta Strappo, segno, disegno, materia e tanto altro questi gli strumenti chiave del pittore abruzzese Lucio Monaco Nel lontano 1999 a causa di un evento che mi è successo in famiglia cominciai a strappare le foto così di una mia cara nel momento in cui ho strappato queste foto mi sono reso conto di aver sbagliato ho ripreso queste foto da dentro al cestino e le ho cominciate a ricollucare sopra delle tele, sopra dei supporti pur traendo ispirazione dalla corrente della pop art Monaco ha sviluppato uno stile personale dotato di un particolare occhio verso il sociale suo grande merito è la capacità di rendere vivi stralci che non erano originariamente destinati ad un fine narrativo Ho seguito tanto Andy Warhol ho seguito tanto Will Eclé ho seguito tanto Rachenberg la mia pop art riguarda molto i problemi sociali i problemi che avvengono nella vita di tutti i giorni Sulle tele vive con la stessa intensità la stretta attualità del Covid e l'immaginario dantesco nel futuro del pittore è già in preparazione un omaggio dedicato a Franco Battiato un quadro di un metro per un metro e sto lavorando su questo che oltre alle musica mi piace molto quello che dice Ottobre volge al termine i bambini di Teramo potranno festeggiare Halloween nel giardino della villa comunale sabato pomeriggio a partire dalle 15 si svolgerà un grande evento ludico con sorprese e giochi a tema un segno di ripartenza è ritrovata a socialità Tania Bonici Castelli festa di Halloween per i più piccoli a Teramo un sabato pomeriggio di paura con giochi e sorprese dentro la villa comunale l'invito a partecipare numerosi è dell'assessorato al welfare del comune di Teramo insieme alle associazioni culturali Teramo Nostra e i ragazzi di Corso San Giorgio un evento che intende andare incontro soprattutto alle famiglie più disagiate che potranno far partecipare i propri bambini gratuitamente abbiamo visto come in questo periodo la vita sta riprendendo sta ripartendo quindi abbiamo pensato perché non sfruttare ancora queste giornate così soleggiate e così belle e organizzare una festa di Halloween per i bambini di Teramo e quindi da questa idea è partita una corsa veramente velocissima per organizzare il pomeriggio di domani alla villa comunale dalle 17 alle 20 con tutti i bambini di Teramo e soprattutto con tante sorprese come si svolgerà questo pomeriggio alla villa comunale? Sì, questo pomeriggio abbiamo allestito la villa a tema e poi avremo dei bellissimi giochi quindi avremo il trucco a bimbi le bolle di sapone lo sputafuoco tutte cose molto particolari e in più ovviamente per Halloween non possono mancare le caramelle le famose caramelle per i bimbi quindi è un invito il mio a partecipare più c'è una sorpresa notevole per il finale ci sarà una visita guidata, culturale al Castello della Monica La festa di Halloween per i bambini alla villa comunale di Teramo vuole essere un segnale di ripartenza un modo bello per ricucire una socialità un po' dispersa con la pandemia È una festività importata non è nostro originale come tante altre festività però il mondo va così bisogna anche finché non si fa danno si fa sempre del bene cerchiamo di fare socialità perché la cosa che oggi manca di più nella nostra città ma penso in tutta Italia in tutto il mondo con questa pandemia è la mancanza di socialità E ora lo sport con il calcio di Serie C migliorano le condizioni di Drudi e Ingrosso il Pescara domenica riceverà l'Olbia e il tecnico Auteri dovrà decidere se rischiare uno o entrambi i difensori acciaccati continua ad allenarsi irregolarmente Galano che è andato a segno nel precedente di Coppa dello scorso agosto vediamo il servizio una settimana piena di lavoro per farsi trovare pronti al match di domenica contro l'Olbia e un Pescara a caccia della quinta vittoria in campionato e che deve dare un ulteriore segnale all'Adriatico tra le Muramiche e il Delfino Stenta solo due vittorie con l'Ancona al 91esimo e con la Fermana una faticaccia e sempre all'Adriatico sono giunte due sconfitte in altrettanti scontri diretti insomma lo stadio di casa non è più un fattore non lo era già nelle ultime due stagioni di Serie B pubblico no e non lo è per ora neanche nella categoria inferiore migliorano le condizioni di Mirko Drudi e Gianmarco Ingrosso anche se solo nelle prossime ore il tecnico Gaetano Auteri deciderà se mandarli in campo probabile che non vengano rischiati entrambi anche perché c'è il rientro di Ianes e il Baby Veroli si sta dimostrando all'altezza c'è anche il dubbio frascatore che in questa settimana spesso ha lavorato a parte Auteri che dovrà sciogliere anche il nodo del modulo confermare la difesa con i tre centrali o mettersi a quattro nel primo caso Ianes e Veroli giocherebbero ai fianchi di Drudi o Ingrosso nel secondo caso coppia centrale Ianes-Drudi o Ingrosso con cancellotti e enzità esterni si va verso la conferma dei tre di centrocampo con Petti in regia protetto dalle mezze ali Rizzo più di copertura e Memushai più offensivo davanti non si può rinunciare ai golli e al tanto lavoro di De Marchi e Ferrari in caso di trio offensivo dovrebbe toccare a Clemenza c'è bisogno di vincere e possibilmente farlo convincendo per regalarsi per una volta una partita senza Patemi anche se l'Orbia è una squadra poco decifrabile con alti e bassi i Sardi sono ostici in casa eppure hanno perso le ultime due gare alle Nespoli e l'ultimo successo in campionato è giunto in trasferta contro il Montevarchi per Indole la squadra di Canzi si chiude e riparte e proprio per questo l'assenza di Udo bomber e contropiedista sarà piuttosto pesante occhio però a Ragazzu e a quel Simone Mancini che potrebbe giocare dall'inizio e cercare di fare bella figura davanti alla sua ex squadra le due compagini si sono affrontate lo scorso agosto in Coppa Italia era la prima ufficiale stagionale per entrambe oltre che il primo confronto in assoluto vittoria Biancazzurra con quella che è stata l'unica rete stagionale finora di Cristian Galano l'altra di Cancellotti l'esterno Foggiano si sta allenando al pari di Valdifiori resta da capire se sarà convocato e se Auteri vorrà ancora coinvolgerlo o meno direzione di gara affidata a Filippo Giaccaglia di Iesi prima giornata a Teramo per uno dei nuovi proprietari della società biancorossa Davide Ciaccia in attesa comunque delle firme davanti al notaio dopo la sottoscrizione del preliminare di due giorni fa Ciaccia ha pranzato col presidente Franco Iachini ha sentito telefonicamente il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto con il quale è stato fissato un incontro per mercoledì prossimo 3 novembre giorno nel quale ci sarà anche il derby di Coppa col Pescara successivamente Ciaccia ha visitato il vecchio stadio comunale infine è stato allo stadio Bonolis dove ha fatto conoscenza con la squadra e in compagnia di Ciaccia c'erano anche Massimo Chierchia futuro amministratore delegato del Teramo ex dirigente del Flaminia Luigi Coni in procinto di diventare il nuovo direttore generale del club biancorosso entrambi diretta emanazione della nuova proprietà e sul fronte calcio giocato la squadra prepara la trasferta di Pontedera contro il Montevarchi direzione di gara affidata a Francesco Deusanio della sezione di Faenza in forte dubbio Arrigoni e Soprano torneranno invece titolari Mungo e Rosso probabile Lombardo in regia ascoltiamo ora sul Ricchio che sabato scorso ha debuttato in C a soli 15 anni sì sicuramente è bellissimo è bellissimo però è bello perché comunque io non me l'aspettavo così presto però è stata una sensazione unica bellissimo veramente mi piace giocare in tutti i ruoli nel centro del campo sia play mezzala se serve trequartista preferisco mediano davanti alla difesa play però anche mezzala mi piace molto inserirmi in qualunque ruolo in mezzo al campo ma allora questo gruppo secondo me è fantastico più che altro perché siamo tutti giovani che abbiamo tanta voglia di fare e quindi mi aiutano tutti molto dopo che ho fatto l'esordio ho ricevuto anche tanti bei messaggi quindi sono felice di stare in questo gruppo perché è veramente un gruppo fantastico tu sia molto Marco delle Monache che io e lui siamo amici da piccoli lui giocava al Pescara io al Chieti facevamo sempre contro e siamo amici da piccoli ora quando lui ho esordito in Coppa Italia gli ho scritto quando io ho esordito quel Cesena lui mi ha scritto siamo molto amici e vabbè io ovviamente spero di arrivare il più in alto possibile e come ha detto anche Carlo dipende da me il mio idolo è Verratti Verratti perché secondo me è veramente è proprio un genio è un genio del calcio secondo me è veramente sotto tutti gli aspetti è fantastico poi vabbè da piccolo guardavo sempre Pirlo che penso sia un idolo per tutti per tutti i centrocampisti italiani giovani però questi due sono quelli che mi hanno impressionato di più e in questo momento di questi tempi guardo molto vabbè Barella che è un giocatore secondo me completo che in Europa come lui non ce ne sono molti e questi questi sono quelli che mi hanno di più impressionato e che guardo di più e questa era l'ultima notizia i servizi che avete visto potete rivederli sul nostro canale youtube e sul sito tv6.it grazie per averci seguito buona serata grazie per aver guardato